Archiviata l'accusa di omicidio colposo nei confronti di Alec Baldwin, a stabilirlo la procura del New Mexico. Nell'ottobre del 2021 l'attore era stato accusato di aver ucciso con un colpo di pistola la direttrice della fotografia Alina Hutchins sul set del film Rust. In caso di condanna avrebbe rischiato 18 mesi di carcere. Luke Nikas e Alex Spiro, gli avvocati dell'attore, hanno accolto con favore la notizia affermando che incoraggiamo un'indagine accurata sui fatti e le circostanze di questo tragico incidente. La decisione è stata presa da due procuratori speciali del New Mexico che a marzo avevano preso in carico le indagini. L'avvocato, prima di loro, che aveva in carico il caso, era stato costretto alle dimissioni. Se le accuse nei confronti di Alec Baldwin sono state archiviate, lo stesso non si può dire di quelle nei confronti di Anna Guiteres-Reed, l'armiera del film. Questo significa che è possibile che rimanga aperta l'inchiesta sulla morte di Hutchins. Durante le riprese del film Rust in un ranch del New Mexico, Baldwin sparò con una pistola di scena. L'arma avrebbe dovuto essere caricata a salve, invece partì un proiettile vero che uccise la direttrice della fotografia Alina Hutchins. Ferito anche il regista, a distanza di poco più di un anno l'attore è stato incriminato per omicidio colposo volontario pur avendo sempre dichiarato di non sapere che la pistola fosse caricata con proiettili normali. Non puntere mai una pistola contro qualcuno per poi premere sul grilletto. Grazie a tutti.